Si è svolta in questi giorni a Crotone e Isola Capo Rizzuto in Calabria la sesta edizione del Trofeo CONI, finali nazionali del Torneo di Dama, a cui hanno preso parte tantissime scuole provenienti da ogni parte d'Italia. A rappresentare la Sicilia l'Istituto Comprensivo Tommasa Versa di Mistretta, con un gruppo di studenti composto da Giorgio Portera, Giampaolo Baglione, Vincenzo Cuva e Gaia Lipari, accompagnati da professore Pippo Dolcemaschio. La cerimonia di apertura si è tenuta giovedì 26 settembre presso lo stadio Ezio Scida di Crotone e con una cornice di pubblico dalle grandi occasioni, gli spalti infatti erano gremitissimi, tutti i ragazzi provenienti da ogni parte d'Italia hanno sfilato in rappresentanza delle loro regioni di provenienza. Una bellissima esperienza formativa ma anche di crescita per questi studenti di Mistretta che hanno potuto confrontarsi con altri ragazzi e ragazze di altri istituti scolastici italiani, giocando a Dama e nello stesso momento fare nuove amicizie e conoscenza. L'Istituto Comprensivo Tommasa Versa negli anni ha raccolto tantissimi successi e riconoscimenti grazie ai bei risultati ottenuti dagli studenti nei vari torne di Dama in Sicilia ma anche in Italia e la Scuola Mastratina crede molto in questo progetto perché attraverso questo gioco si insegna ai ragazzi il rispetto per l'avversario, i valori dello sport e anche a lavorare con la mente facendo affidamento sulle proprie capacità intellettive.